Ciao amici, benvenuti nella cucina di Domenico Food! Oggi vai, carbonara, tagliare il guanciale, questo è un guanciale toscano spettacolo, vai! Aggiungo il guanciale in pentola, vai! Guanciale pronto, alzare il guanciale, filtrare l'olio del guanciale, vai! Puoi, pecorino e pepe, faccio la cremina, vai! Cremina pronta, aggiungo un po' di olio del guanciale, mamma mia che spettacolo, madonna che è qua, crema pasticcera, vai! La pasta è pronta, un po' di acqua di cottura per risoltare, vai! A fuoco spento, aggiungo nella cremina, vai che spettacolo! Ed ecco qua la mia carbonara!